Andiamo per gradi, perché qui in Italia c'è moltissima confusione e i media e i ricercatori riportano di più coloro che sono contrari a quello che tu hai fatto. Quindi voglio fare una scaletta punto per punto, in modo che tu possa rispondere a tutti gli italiani che ti ascolteranno. Chiaramente ti chiederò della scoperta di quello che è successo il 12 settembre e di quello che è accaduto dopo. Fammi anche domande difficili, se vuoi. Quello che vuoi. Ti chiederò su tutte le accuse e le affermazioni contrarie che vari presunti esperti hanno detto contro di te. E così potrai rispondere. Perché, ripeto, molti hanno parlato contro di te, contro l'evento, contro i corpi, e quasi nessuno su quali siano i fatti e i risultati delle indagini e delle analisi. Bene, Jaime, da chi è partita l'organizzazione di questo evento? Di chi è stata l'idea? È stata un'idea congiunta del deputato Sergio Gutierrez Luna e mia, di Jaime Maussan. Un anno fa, quando sono iniziate le audizioni negli Stati Uniti, mi sono rivolto a lui, perché a quel tempo non c'era alcuna protezione per lo spazio aereo messicano, soprattutto di fronte a un fenomeno sconosciuto. Successivamente, il Messico, e dopo almeno due audizioni negli Stati Uniti in cui si è parlato del tema, ha sviluppato una legge per proteggere lo spazio aereo. Però è stata presa in considerazione la figura del fenomeno aereo non identificato. Tuttavia, questo fenomeno si riferisce a droni, aerei, palloni o qualsiasi cosa si trovi in cielo. Così, negli Stati Uniti, hanno apportato una modifica chiamandolo fenomeno anomalo, non identificato. Tra le parole aereo e anomalo, pur avendo la stessa lettera, c'è un'enorme differenza. Un fenomeno anomalo è una nave che può entrare dalla stratosfera all'interno dell'atmosfera, fino ad arrivare al fondo del mare. È un fenomeno anomalo che si riferisce in modo molto specifico ad astronavi che manifestano una tecnologia sconosciuta agli esseri umani. Per questo lo chiamano anomalo. Ho quindi suggerito al deputato di apportare un emendamento alla legge per considerare il fenomeno anomalo in Messico, dato che innumerevoli piloti e controllori del traffico aereo stanno segnalando questo fenomeno. E credo che sia importantissimo. Lui ha accettato, soprattutto dopo il 26 luglio, quando i piloti e anche il signor David Grush hanno parlato non solo della tecnologia di queste navi, ma anche della possibilità del possesso di astronavi e corpi recuperati dal governo degli Stati Uniti. E questo gli è sembrato un buon motivo per presentare un'udienza pubblica in Messico, un'udienza pubblica al Congresso. Tuttavia, in quel momento, non era stata presa in considerazione la possibilità di presentare questi corpi. Questa è stata una mia idea, con la sua autorizzazione. Perché quando mi sono reso conto che gli Stati Uniti, il Pentagono, stavano bloccando ogni possibilità dei congressisti di avere accesso ai resti biologici di cui parlava Grush, ho detto, beh, noi abbiamo dei corpi. Perché un amico era, in un certo senso, in possesso di due corpi di Nazca, cosa che non sapevo. L'ho scoperto qualche mese fa. Non potevo crederci. Tuttavia, erano qui in Messico, e questo mi è sembrato... Prima di tutto, non l'avrei mai fatto, ma erano qui. E avevo anche tutte le informazioni nuove su ciò che è stato trovato nei metalli di questi corpi, eccetera. E poi ho ritenuto che fosse importante fare un salto in avanti e, con tutto il rischio che questo comportava, presentarli davanti al Congresso del Messico e davanti al pubblico di tutto il mondo. Sapevo che avrebbe attirato molta attenzione, anche se non mi aspettavo che fosse così tanta. Che fuera tanta. Grazie.